E' una questione di serietà, io non mi esprimerò mai su un no di fronte a un progetto che ancora non ho visto, non sono ideologico, se il progetto non sarà tale da poterlo poi avviare per l'it necessario sarà un'altra cosa, ma prima non si dice di no, dopodiché ci sta anche in natura che il sindaco del Consiglio Comunale non esprime la sua opinione e può essere anche un problema per me stesso, ma il mio modo di lavorare non so, mi sono candidato per fare le cose e cerco di farle, quando poi ci sono buoni motivi, ma devono essere buoni motivi per non farle, non ne prendo atto, però ripeto, trovo profondamente sbagliato un atteggiamento anche di una parte del PD che non avendo ancora visto il progetto dice non va bene, vediamolo almeno. Però Fontana ieri ha detto che il Milan ha presentato il progetto, quindi... No, non è così, il Milan ha nella documentazione che anch'io ho più o meno visto ha una serie di ipotesi, credo 6, 7, una cosa del genere, quindi non è così. Fontana ha fatto una semplificazione, in realtà il progetto va presentato e non su uno schizzo, per cui si sono impegnati a farlo in un paio di settimane. Un paio di settimane in cui torneranno con un rendering che sarà un po' più... Sì, con metrature, cosa ci vogliono fare, cosa per esempio è chiaro che per me è una cosa decisiva, quanto verde rimane e che tipo di parco si può creare. Ora, pensate a quante domande, che tipo di parco, quanti ettari, pubblico, chi lo gestisce, per cui queste sono le cose su cui bisognerà confrontarci. Grazie a tutti.